No no, è il bel Vai, destra 2, 100 Sinistra, 2 in versione alpino, 20 Destra 5 Per sinistra 5, 80, è il muro? In fondo, sinistra 2, 3, gira, 50 Destra 5, 100 Sinistra 2 in versione, 20 Destra 5, 100, sinistra 5, 100 Alpoggio, sinistra 3, gira, apre Per destra 2 in versione, apre 5 80 Sinistra 2, 100 Destra 2 Sinistra 5, 40 In versione, sinistra Destra 5 lunga in due tempi, chiude il fondo, eh? Occhio Per sinistra 4, chiude 3 e riapre 50 Sinistra 3, rientra Per destra 5, vai 80 Sinistra 5, 50 E destra 2, apre 50 Sinistra 5, chiude e taglia sporca Per destra 5, tieni, vai 80 Al fondo, al muro, all'olivo Destra 4 Per sinistra 5, stacca Per sinistra 2 100 Sinistra 4, apre 5, vai 100 Destra 2 70 Destra 3, tieni, apre 80 Destra 5 E sinistra 5, lunga Chiude in fondo al tornante 80 Sinistra 5, chiude poco 50 Destra 3, rientra E sinistra 5, lunga 80 Vista Array, sinistra 5, chiude poco 80 Sinistra 2, inversione 20 Destra 2, taglia Stai largo Stai largo Stai largo Destra 5 50 Destra 2 Stai largo Stai largo Stai largo 2 2 2 2